Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi siamo su Marvel's Spider-Man. Inizio finalmente questa nuova avventura che aspettavo da tantissimo tempo, dai tempi di Spider-Man 2 su PlayStation 3. Non vedo l'ora di iniziarlo, so che sarà grande come storia, grandi come cose da fare. Non so come portarvi sul canale se portarvi tutta la storia così, penso di sì. Però penso che vi porterò un po' tutto quello che farò sul gioco, quindi tutte le quest secondarie, tutti i collezionabili. Andiamo a vedere subito il gioco. Nuova partita. Allora, difficoltà io direi di metterla normale, quindi incredibile. Un attimo solo che devo fare una cosa. Allora, ok, perfetto. Così lo posso vedere meglio anch'io. Allora, incredibile. Vai. Vediamo cosa c'è qua. Inverti comandi, no? Modalità ascolto. Io ce l'ho sulle cuffie. Ok, sottotitoli ve li metto? Sì, dai. Io gioco sempre senza sottotitoli. Come avete visto, se qualcuno l'ha visto su God of War, ho giocato senza sottotitoli. Per me è più coinvolgente, però magari per voi è meglio. La webcam spero stia bene in questa posizione perché ci sono delle informazioni su schermo che non so dove sono ubicate. Andiamo. Continua. Partiamo con la partita. Partiamo con la partita. Va bene. Ok, siamo in presentazione. Probabilmente ci saranno momenti coperti da copyright. Io per questo vi metterò il video, almeno questo, senza monetizzazione, in modo da non intercorrere a mutamenti audio. A tutte le unità, mobilitazione 4, direzione Fisk Tower. Fisk? Sì. 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 La SWAT si trova ora alla Fisk Tower. Restati in attesa di ordini. Mandato in arrivo. Ma che presentazione è? Oh mio Dio. R2 e uscilla, ok. Più si palazzi. Ok, perfetto. Oh mio Dio. Che spettacolo. Ma c'ha una fluidità incredibile. Che poi il bello è che le ragnatele si attaccano proprio sui palazzi. Se c'è il vuoto voi praticamente non potete utilizzare la ragnatela. È incredibile. Il capo. Devo liberarmi in fretta per dedicarmi al mio vero lavoro. Che faula come si attacca sui palazzi. È veramente incredibile. Poi sotto c'è... C'è la città è vita. È viva. Vita. Ok. Agia. 10.32. Time square. Agenti sottotiro. Ora toccate. Il livello grafico è fantastico. Il livello grafico è fantastico. Eccolo. Grande. Io levo le armi. Combattimento? Sì. Ok. Come si combatte? Attacco ragnatela. Triangolo. Ok. E poi il quadrato per attaccare. Invece questo adesso per schivare. Ok. Capito. Quello? Ah. Troppo presto. Stavo circondato. Bada. Che figata. Ok. R1 ragnatela. Wow. Lavoro a parecchia gente. Ok. Dovete bene il tutorial perché... Gli è passato sotto. Spider-Man. Qual è la situazione? Qui ho quasi finito. Tu? Stiamo per entrare. Arrivo subito. Non voglio perdermi la faccia di Willy quando lo ammanettate. Madone. È fantastico. Sistema di combattimento è altro che Batman. All'ennesima potenza proprio. mostruoso. Mostruoso. Ok, Yuri. Ho finito. Cosa sta... E poi se... Cioè... Lo capisci subito come... Ok. Ripartiamo. Molto intuitivo. Bellissimo. Chi è? Vabbè, è mostruoso. Ok. Questo è tutto un tutorialone per iniziare. Per farti capire come si gioca. Veramente... Mestruoso. Primo impatto... Sì. E bloccate il traffico aereo. Yuri, tutto bene. Se fugge dall'edificio, lo perderemo. Allora io andrei... Accomodati. Sì. Sì. È il gran giorno, Willy. Di avanti Spidey. Avanzi, avanzi. Un gioco. Occhia a me. Però è il costume diverso dai trailer che ho visto. È il vecchio costume questo. Cioè, il classico. Avrò un passaggio, seguitemi. Ok. Ok. Ci sono. Poi... Incrementa il combo per comunicare concentrazione. Ok. Combattimento aereo garantisce una concentrazione bonus. Mi piace deluderti, amico. Ma tu non farai un bel niente. Oh. Grazie per la botta di autostima, ragazzi. Questo? Questo? Quello che si dice è un ambiente di lavoro ostile. Mamma che figata quando mi parla sotto. Perché non crema? No, così non vale. No, no, no. Eh, mi ha preso la prima volta. La prima volta mi ha levato un sacco di vita. Ok. Concertazione per curarti. Con il... Ok, col D-pad. Quindi in giù. Perfetto. Qua? Targo su. Ok. è molto più dinamico di batman come combattimento un approccio diretto la tromba dell'ascensore vai spiderman novità mi dirigo a un po via sperando che nessuno riattivi gli ascensori stanno sparando agli elicotteri temo che fiscati a uomini armati su ogni piano premere due per scorrere la tromba dell'intercettato una chiamata stanno cancellando i dati sui server quelle prove ci servono se vogliamo tenerlo dietro le sbarre ok alla sala dei server ok si a me ah quasi fantastico ok l'ha preso ciao allora concentrazione poi eseguere un colpo di grazia come si fa? fatelo smettere di sopporto pensate davvero che per voi finirà bene? madonna rispettami beccati questa dov'è questo che ragna delle attaccate? un colpo di grazia e so diversi oh ma che bastardo devo trovare la sala server è incredibile ma le cancelle non le prove allora chiusa sala server dove cazzo? la stà? è qua? no? sala server? dubito ci siano dei server su questo piano alla stata parte ah ok vai se entrassi da qui distruggerebbero le prove erate per i miei amici già avevo premuto perché pensavo era proprio lo scanner devo trovare un accesso secondario dell'altra porta non penso all'altra ok è come la buca del bianco ragno Fisk sarà anche uno sporco criminale ma i suoi condotti sono piuttosto puliti presto il boss vuole che cancelliamo tutto bellissimo eliminazione condotto le battutine poi sono fantastiche si è qua dove vai? fermate spidey vai qua siete l'assistenza? ho scordato la password mattacci tua fermatelo attenzione eliminazione completa iniziale fermatelo il sistema non è ancora pulito più maleducati dei miei ex colleghi informatici guardate guardate lo sto curato ma cazzo se mi sono messi questi due scemi ok fatto questo lo fa? questo ok vai magnifico dimenticato di aggiornare il canne nasconde sull'excel eccolo, kinky persino per te disse quello che sta cancellando la sua cronologia dopo tutti questi anni sei rimasto sempre il solito moccioso ignorante vero, ma fa parte del mio fascino vaga abbattete quella porta ok vabbè quello che abbiamo fatto prima beh una volta ho sconfitto un signore del crimine borioso e arrogante prima di colazione senza di me la feccia che tengo al guinzaglio finirà fuori controllo è la colpa ricadrazzo di te no è stato un lungo viaggio Fisk è quasi triste che sia finito è solo il freno mio e dai preparati per il momento clu basta chiacchiere ok ok qua fino no vai 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 vado giù vado vado ma è rimasto incastrato è rimasto l'elf incastrato a schermo perchè è rimasto no un bug qua da stata parte in alto ok perfetto questi con lo scudo ah sono nostri ok sembrano sembrano intrappolati tu pensa a loro noi cerchiamo le bombe graficamente è pazzesco tutti fuori evacuate l'edificio ok ho sentito altre voci da laggiù li troverò qua qua no qua spiderman devi aiutarci siamo bloccati parca puttana guardate è cascato uscite in fretta se potete camminare aiutate i feriti ok oddio oddio vai 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 via forza prego prego ok sto arrivando spiderman qui yuri dimmi ecco ecco si probabile qui fai salire i medici ora ci proviamo cazzarola chi è? ma che è? siiii poi pure il bazooka siiii attenti eh oh due oh 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 ma che siete matti sentirei sentirei cos'è il vero dolore cos'è? la giornata nazionale dei missili oddio che putta ma dove vai? ma dove vai? vole beh ah dove hai premuto? ok e qua non è possibile che gli artificieri siano passati da qui non è possibile e qua il parkour facciamo anche il parkour con spiderman eh andiamolo non spingete ne ho abbastanza per tutti attenti alle ragnatele cazzo beh no cazzo vorrei che non mi ammazzano qua non è che ho preso un po' di vita assaggio a questo ok la stanza è libera ho rischiato devo imparare bene le tecniche allora qua vai voi state bene? stavamo per chiamare i rinforzi sono qui apposta va avanti ti copriamo le spalle ok non che cazzo mi ha? cazzo mi ha? facci vostro spazio di merda si eh si ok va bene non credo e dai che figata non c'è nessuno non c'è nessuno fatto dai che c'è qua? c'è frisk? ho kingpin questo è l'ufficio no? si 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 questo dai oh oh prima boss fight con kingpin madonna che livello grafico ragazzi è impressionante scrivi le tue memorie? non dimenticare il trattino tra spider e man preparate l'elicottero arrivo subito si eh? va bene sono sorpreso di incontrarti ma il tuo teatrino finisce qui e drappola sai che riesco ancora a vederti vero? otto anni della tua insolenza cazzo dunque le muovenze sono straordinarie devo aspettare l'occasione oh ok che stai facendo? facile questi dai chi è qua frisk? come è possibile? che c'è willy? sembri arrabbiato? willy? io ti distruggerò madonna quanto è potente st'uomo cazzo che ero? eh? alle 1 R1 oh le ragnate le so si devono caricate no no scappa 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 che cazzo? quanto si è carico? quanto ci vuole a caricasse? porca miseria oh oh no e dai mi sono scanzato vai e no me ne donna quando è così ok basta torna indietro tochi col fuoco ragazzino non stavolta oh oh beh fatta cuttana aia io sono male eh mannaggia la pupazza le rendi con stavo per dire lo stesso di te sapete cosa fare? no vabbè ma pure i scagnozzi porca puttana siete addestrati per combattere? combattete! oh c'è non accetto scuse madonna mi stava via oh no scappa 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 oh mi sa che da mazzarriamo questi dove sono i rinforzi? non lo so che sgradevole seccatura non lo so non lo so non lo so e da ma qua ci stanno questi via ci ha castrato intanto ho là dietro il bazooka via 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 toccate fuga via non lo fa via vai vai cazzo e via sempre? ma questa beh oh ok cazzo quick time events quick time events cazzottoni madonna che scena madonna che scena mostruosa mostruosa che spettacolo che spettacolo e adesso si aprirà tutto l'open world con potenziamenti costumi madonna immenso finalmente vai a Riker eh mi sa che lì dentro hai anche più nemici di me non illuderti che sia più di una breve parentesi ops, devo andare ehi, buona fortuna Willy ho l'impressione che ti servirà idiota sono io ad assicurare l'ordine in città sì, critiche un mese tra un mese tutti rimpiangeranno la mia assenza ok è la fine di un'era dovrei festeggiare con una vacanza magari mi sa che ci aspetta altro allora livello 1 livello 2 naturalmente incremento energia più 10 un punto abilità c'ho 6 punti perché ho preso la deluxe edition e ci sono 5 punti in più più alcuni costumi più i DLC in uscita ottobre, novembre, dicembre dovrebbe essere allora andiamo a vedere l'abilità oh madonna allora questa è una diremigazione per innovatore difensore, lanciatele perché ognuno di questi ha un potenziamento ulteriore qui adesso mi fa fare per forza questo afferra, lancia nemici folgorati ah, lancia pure i nemici perfetto ok, devo farlo per forza ok, adesso ho i 5 punti che sono a mia scelta non so se ci se ci vediamo direttamente una volta che ho fatti allora incrementa la portata dell'eliminazione da sporgenza penso per adesso no le mosse rinitere atterra i nemici durante le fasi di rotazione sgomberando l'aria circostante anche e non sarebbe male ok, si poi difensore che fa? premi cerchio quando il senso di ragnosi di colore di blu per contrattaccare i nemici con un proiettile di ragnatela al volto carino vai quindi quando diventa... quando la vedo poi ci sta premi quadrato nell'istante in cui un attacco va a segno per generare concentrazione bonus questo sarebbe buono cioè doppio colpo se no c'è incrementa la finestra temporanea di schivata perfetta e il contrattacco con un proiettile di ragnatela aspetta controattacca ok però questa è buona premi quadrato quando tieni... quindi premi il triangolo per afferrare un nemico e lanciare una direzione che preferisci no, non interessa questo forse sì questo sì acceca il nemico è buono ci sono rimasti due punti vediamo un po' l'oscillazione per scagliare lontani gli nemici con un calcio con un oscillazione ok ok quando sta in aria premo per la ragnatela ok questo è figo poi c'è un punto ancora beta posso eseguo una seconda proiezione ok questo sì perché vai molto più veloce nell'esplorazione quest'altro attacchi infliggono più danno concentrazione questo però te ha vabbè vabbè però te da i pie i pie bonus ma io preferisco più questo doppia proiezione sì ok adesso ci siamo i punti abilità li abbiamo finito bene comosso e qui ti indica tutto disarmo con una ok morsa la ragnatela perfetto e qua non si imparavano tutte poi che do fa? esegui una proiezione mirata madonna è qualcosa di pazzesico chi è? dove sei? ma il capo sto arrivando sono pochi isolati insomma no no è pericoloso allora se perdiamo il lavoro ammiro l'entusiasmo del dottore ma a volte rischia di metterlo nei guai devo essere lì prima che si faccia male quindi lavoravo con un dottore ma non c'è sta niente per applicarsi con i ragnatelli e naturalmente non non ce va bellissimo per tuffarti? che figo non è mostruoso non è mostruoso quasi arrivato eh? non mi ricensiamo mi raccomando la porta ok mostruoso non so più che dire scusa il ritardo io ecco che sta a far capo? è octobus eh sì ma hai iniziato senza di me la direttrice della commissione sarà qui a momenti tranquillo Parker è una mia invenzione direi che posso gestirla aia il dissipatore ma gesti un cazzo accidenti non dovremmo fermarlo non ancora non resisto potete rispegnerlo prima dottor octavius tutto bene ottavius octopus ma ci siamo ma ci siamo sì ecco va come si avvelenano siete feriti? no ma è tutta colpa ecco i livelli di energia hanno superato la previsione per certi aspetti è sicuramente uno sviluppo molto promettente raggiudicare dall'odore non si direbbe affatto glielo assicuro la prossima fase cerchiamo di non correre troppo possiamo discuterne da qualche altra parte direi prenditi la giornata libera Peter ma ne parliamo dopo un po' rudimentali quelli tentacoli de octobus che disastro il mio altro secondo lavoro il mio altro secondo lavoro mi ha lasciato la giornata libera devo capire cosa è andato storto ok andalo muove il braccio muove il braccio non si muove ok vediamo qual'è il tuo problema e qua bello che ci stanno anche questi intermezzi di gioco diverso esiti diagnostica errore 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 che devo fare il minigioco il circuito è bruciato accidenti se fossi stato presente al collaudo mi ne sarei accorto allora la centrale energetica del braccio è danneggiata premio X per continuare crea una connessione tra il modulo iniziale verde e il modulo finale arancione ok d'orriva fino a quell'arancione tramite questi spazi qui tramite i pezzi che stanno a sinistra ok qua semplice lo ruoto ok questo sempre questo lo ruoto questo mettiamo questo qui eeeh dori alla quella arancione eh devo mettere per forza questo questo vedo che è banjuu ok questo che è banjuu perchè a sinistra non ci posso andare quindi lo ruoto metto questo e metto quest'altro cacchiata vai completamente riparato ok devo deviare il servo comando alcuni modi del circuito consentono di instabili connessioni solo da direzioni specifiche ok allora questo da andare per forza in giù eh sì da andare per forza in giù quindi così ok questo ancora giù questo ancora giù questo lo metto questo qua vabbè che c'è di difficile ah ho finiti oddio quello così no e come cacchio faccio qua qua metto quello libero qua metto questo questo cazzo sta questo mi stava in piccià era facile facile era facilissimo completamente riparato per ripostare il controllo del voltaggio di potenza devi soddisfare anche il requisito di carica qua vabbè questo dovrebbe essere una cavolata eh sì dai questo devo mettere eh l'1 qui un forse il 2 devo mettere qui devo mettere il 2 qui devo mettere questo che scende e qua e questo qua giusto? porcacchio quindi pure qua lo mette il 2 ok successo e l'abbiamo finito schermo abbraccio completato vediamo se funziona favoloso ecco l'applicazione mi dice che è presto a spesa da 15 minuti io non capisco perché mi fa sempre così sulle applicazioni sui giochi comprati sullo store perchè ho ok funziona perchè ho un secondo account che ho condiviso con mio figlio per ogni tanto mi dà questa cosa però poi non si chiude l'applicazione ok eh sì eh dai vediamo un po' questo è un altro minigioco si si allora il suo obiettivo è identificare la sostanza ignota e il suo spettro di assorbimento ok vabbè dobbiamo mettere tipo puzzle si vabbè dai non ho capito c'è bisogno di modici così questo no che cacchio ho preso questo e quella 3 da qua ok facile me ne va a fare un altro un po' più difficile un composto di idrogelle e polimeri resistente ma dall'impedenza eccessiva suggerirò a doc di cercare di meglio ah ok ho fatto però posso fare ancora devo andarmene prima di peggiorare la situazione di doc vabbè andiamo dai ok vi direi di salutarci tra un poco eh perché già penso che è venuto abbastanza lungo ed è molto tardi suggerimento successivo perché questi sono tutti i suggerimenti nello schema dei caricamenti è veramente figo cavolo non me lo aspettavo in questo in questa maniera veramente veramente figo direi che con questo ragazzi ci possiamo salutare qui citta sono iuri fisk è già arrivato a riker niente riker a quanto pare merita un trattamento esclusivo è nel rant ah raggiungerà scorpion electro e gli altri vi sarà grato è in buona compagnia vuoi passare qui al distretto ho un problema che richiede esattamente le tue competenze per te iuri questo è altro arrivo subito ma nel prossimo video quindi ciao ragazzi e grazie a tutti per il sostegno ci vediamo nel prossimo video un nuovo episodio dello show di Jameson chissà cosa pensa il mio ammiratore numero uno della cattura di fisk ciao ragazzi bentornati a solo i fatti con J. John James no rispetteremo dei problemi che affliggono la città con il vincitore del premio Pulitzer due volte due volte vincitore del premio Pulitzer non chiedi il direttore del Daily Bugle e spinge il libro e come sempre ordinando il libro del signor Jameson Spiderman pericolo minaccia nelle 24 ore successive al programma avrete una copia autografata gratuita niente dediche personalizzate non chiedete non ne faccio il mio vecchio datore di lavoro basta ragazzi ci vediamo al prossimo video